Io ho anche forse capito perché l'Italia e la Germania hanno ottenuto un forte manifatturiero e paesi come gli Stati Uniti, il Giappone e l'Inghilterra l'abbiano perso, perché lì non avendo uno strumento che tiene agganciato il lavoratore all'impresa quando c'è una crisi, l'azienda licenzia, perde i lavoratori, quindi perde le competenze, professionalità, pensa di convertirsi in altri settori che poi in realtà sono delle bolle che non durano.